Marco Fiorì, personalmente un'altra grande partita, ma come commentiamo questa terza sconfitta casalinga della stagione? Diciamo che purtroppo non è servita, poi all'ultimo mi si è fatto prendere un po' dal nervoso, cosa che non mi posso permettere, quindi ho sbagliato nell'atteggiamento finale che questo penso di aver fatto. Comunque sono contento della prestazione personale, anche se non del risultato. Gli episodi oggi ci hanno punito, perché il primo gol eravamo messi un po' male, un po' sbilanciati, perché eravamo a favore di Vento. Abbiamo preso sto gol, poi siamo riusciti a riprenderla. Il secondo gol è stato un episodio, perché è un calcio d'angolo che il nostro cercapalle è. Il Vento gliel'ha spostato all'ultimo e l'ha messa sotto l'incrocio, quindi oggi diciamo che io non faccio mai appello alla fortuna, però oggi non ci è girata bene. Forse cosa non ha convinto troppo è stato l'atteggiamento della squadra nel primo tempo, o meglio, non è riuscito a sfruttare proprio le condizioni climatiche. Il gol preso a metà primo tempo ha incanalato la partita in maniera più complicata poi da raddrizzare. Sì, su questo campo noi sappiamo che comunque viaggia tutto in base anche agli episodi. Noi diciamo che non troviamo alibi per questo, però dobbiamo dire anche che oggi credo che tutti fino all'ultimo minuto hanno dato il massimo. Purtroppo ci è girata storta per due episodi. Da qui in avanti con un atteggiamento come quello di oggi e come quello che abbiamo avuto nelle ultime partite, sono certo che riusciremo a raggiungere questo nostro obiettivo e poi a giocarcelo alla grande.